Musica Benvenuti al consueto appuntamento con le opportunità formative e le offerte di lavoro della provincia di Savona Il Centro per l'impiego d'Albenga ricerca una cameriera di sala per ristorante a Pietra Ligure Esperienza nel settore tra i 2 e i 5 anni, conoscenza di base della lingua inglese e tedesco Contratto proposto, tempo determinato, full time Il Centro per l'impiego di Savona ricerca un impiegato tecnico per azienda di Vado Ligure Requisiti richiesti, diploma, tecnico, conoscenza informatica buona, conoscenza di disegno tecnico di sistemi di progettazione 2D e 3D Contratto proposto, tempo determinato, full time Il Centro per l'impiego di Calcare ricerca un carpentiere in ferro per azienda di Cairo Montenotte Requisiti richiesti, assolvimento, obbligo scolastico, patente di tipo B Contratto proposto, tempo determinato, full time Nasce sul portale della provincia di Savona, forma lavoro Un sito realizzato e strutturato dal sistema informativo aggiornato dal settore politica economica e del lavoro della provincia Un servizio più semplice ed immediato che si rinnova quotidianamente con offerte di lavoro Sono state inoltre aperte le iscrizioni al corso di riqualificazione professionale di operatore socio-sanitario Scadenza iscrizioni il 31 marzo 2011 Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete visitando il nostro sito www.provincia.savona.it Naturalmente queste sono solo alcune delle offerte che troverete